Per tutto il pomeriggio e la serata di ieri, i residenti di Triasso con il naso all'insù per cercare di capire la traiettoria e il corso del rogo divampato alle 16.30 in località piatta, al confine fra i comuni di Sondrio e di Castione Andevenno. Una zona impervia caratterizzata dalla presenza di rocce irraggiungibile in mezzi dei vigili del fuoco deputati allo spegnimento. Per questo ai pompieri di stanza presso il comando di Sondrio non è rimasto che presidiare l'area interessata e fare quanto possibile per contenerlo, evitando che si espandesse oltre. La nottata peraltro ha portato consiglio permettendo al rogo di raggiungere il suo apice nella zona, divorare tutto il divorabile e poi lì arrestarsi. Tant'è che non si è più reso necessario in mattinata il presidio dei vigili del fuoco. Ignote le cause del rogo, tutto è possibile, dal mozzicone di sigaretta alle fiamme intenzionali a faville portate dal vento a seguito dell'incendio di potature della vite. Operazione per la quale peraltro, dallo scorso gennaio, vige il divieto assoluto introdotto da Regione Lombardia su tutto il territorio regionale a causa della fortissima siccità in atto. Divieto non più revocato, spiegano dalla polizia locale di Sondrio, anche se, dicono, cominciano ad arrivare richieste in questo senso dai tanti viticoltori della zona che stanno effettuando le potature. In condizioni normali, il viticoltore deve compilare un modulo apposito in cui ci informa delle bruciature che intende effettuare. Ma ora come ora occorre aspettare, perché non possiamo dare alcun via libera. Nella tarda mattinata di oggi poi altro intervento dei vigili del fuoco di Sondrio chiamati ad intervenire per un rogo divampato in un'abitazione di Sant'Anna in via Gualzi. Per cause da accertare, le fiamme si sono sprigionate nel sottotetto dell'abitazione di Giuseppe Moroni, mandando in fumo l'intera mansarda. Un grave danno per il residente che nel tentativo di spegnere l'incendio si è anche procurato stione alle mani. I pompieri hanno avuto il loro da fare nel governare il rogo. Intervenuti intorno alle 11.30 sono rientrati in caserma alle 15. Nel mentre un'altra chiamata giungeva al comando, questa volta ad Agrossotto. Ad andare in fumo anche in questo caso è il tetto di un'abitazione di via statale. Nessun danno alle persone, ma alla copertura sicuramente. Grazie a tutti.